almeno saluti ara che bella macchinina che abbiamo bella a tutti ragazzi qui wolf jacopo me e benvenuti a questo nuovo live non c'è pepe percomi purtroppo però ci sono andoi due io sono stato appena finito con stanno aspettando ah doveva salutare questo qua lo mettiamo come inizio siamo qui con dottor mister carrara io sono mister carrara e io dottor kuto e lui si sbaglia perché è un coglione come sei no ma è normale è matematica ecco siamo già partiti con è normale è normale siamo partiti con sta trollata comunque ragazzi io amo la cvr la mia arma preferita infatti mi ha appena tradotto e non so soliti solite cavolate voi dov'è che siete noi siamo su una barca eh adesso arrivo vai vai tirare giù l'elicottero dai dai mi sa che qua ci tira giù l'elicottero aralo eh io sto cercando minchia l'hai colpito sì cavolo vai 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 oh assistenza allora aspetta mi riparo io dai quanto sono forti ho tirato giù l'elicottero eh perché magari io li ho fatto 40 di danno perché c'è una moto d'acqua parcheggiata sulla barca perché magari io li ho fatto 40 di danno ma guarda c'è la guarda c'è la barca ma che cazzo c'è un'altra tizia qua no ma guarda c'è la cosa ho capito c'è un lab lab sinistra sinistra lab davanti lab 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 dio scendi 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 sta saltando di mare a bull sono sceso seguo Rikimar eh c'è Wolf cioè chi stia giocando non so ciao chi sta giocando eh non si sa ciao ma che cazzo non hai l'arma non hai l'arma ma che cazzo c'è baggato lab 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 ok ora c'è stava sparando con con le mani barca faccio notare che non sta giocando sicuramente dacopoli c'è perché se no avremmo già finito la partita walt è il pro di turno ecco se no con me avremmo già finito la partita no questo qua che posso di campionato battere è il mio posto di campionato dai l'arma come cazzo è possibile io odio è stato battlefield odio i battlefield no io odio i battlefield ah i battlefield ok allora il senso è un bug è un bug questo sicuramente il primo pezzo da tagliare è questo qua dei baggi oh cazzo 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 ma non anticipa niente lo togliamo in modo che tu dici io odio battlefield i cazzo non è anche io stano specchie dica e vabbè la pa la il testo volete corretti che ho favore di granati almeno mi serve che dico anche come al solito grazie mi ha salvato il culo grazie richi man il nostro PSN non è più un segreto sei un medico no sono un genio se voi non lo sapete ma dottor kutu è come Zed di non Zed è come per chi non l'avesse capito è come Zed di Vodelas2 fa il medico ma non ha una ma non ha una sono un secondo che siamo in discussione ecco avete avete il microfono per registrare su playtrap con qualsiasi programma per registrare lo schermo che registra anche l'audio dello schermo ah fraps fraps va bene fraps mi pare che non faccia aspettate che faccio un controllo si ma vabbè dai facciamo anche un tutorial guarda tanto che ci siamo è merda so che bello facciamo ma è una merda si sente malissimo che ne sai ma che proviamo un attimo ma di fisso dai questo live qua verrà più un live ecco un live tecnico praticamente e se no ma riscarichi quello un secondo tanto ha detto che va bene va bene spero che questo lo tagliate spero no perché io sto facendo un sacco di poate quindi non lo tagliamo ecco conoscete eh vabbè lo tagliate lo stesso voi dove siete? io sono dietro di te ma c'è sarà la quinta o sesta volta che mi continua a chiedere dove che siamo se è la quinta o sesta volta che mi continua a chiedere dove che siamo se è la quinta o sesta volta che mi continua a chiedere dove siamo ha laggato ha laggato oh mio dio sta laggato vabbè lancia missili che uno si sa come mi sta facendo un casino di scusa cavolo io ho giocato ma sponfano i due batte i tre batte i tre batte i quattro la body wolf sta morendo cento volte lol ma cinque uccisioni ne avete fatte cioè io io non c'è fate uccitante perché a me era venuto in mente a proposito di Matteo Renzi però non so chi ha io lo so che finiamo sempre di parlare di politica ma il nostro non è un canale che parla di politica almeno secondo tutti i forum nel quale abbiamo spammato comunque ragazzi diciamo subito che dopo dottocute mister Carrara come si è morto si è bancato comunque come come ospite verrà Maurizio Corsa si lo voglio e Matt Berkumi ci sarà un video su FIFA dove faremo qualche collata si ecco se avremo degli ospiti speciali come ma porta puttana non si dice si dice porto naso ecco wolf è fissato con il naso come io con il 7 o betto e berkumi io sono fissato con con le file no dai ma sei stronzo con questo ci facciamo il trailer come due settimane e continuava a crashare il pc che cazzo di pc avete windows 8 avete il pc della picco no è comunista è che wolf ha il 9 z 500 che uscendo di fabbrica ha avuto qualche bug che poi ha corretti dopo ma noi abbiamo è ma è cinese non si può pretendere ecco non ho più l'arma è vero voi di dove siete comunque della Clementoni il posto della Lega dove c'è la Lega noi siamo nella terra polenta la padagna non so sto video qua è un casino terrificante va beh la prima cosa che vi viene in mente è l'ottor culto il mister rispetto a cosa una parola qualsiasi la prima che mi viene in mente tette tette ovviamente ok poi da cercare su un ciclopedia no no ma questa cosa non è un ciclopedia e non c'è una simpatica signora che sta giocando a tennis qua ci sono ci sono le curiosità le avvertenze in caso di possesso le artifici amali le tette biscottate notare che io sto cercando le cose più strane che ci sono su un ciclopedia tipo l'orologio l'orologio è un nuovo modello ah è un nuovo ok 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 assoluti tranquillo comunque stiamo a fare una bomba praticamente mai fatta come se non cazzo siete in versione piccola ah ora sono laggiù che scappano eh tu stai eh ecco guarda facciamo facciamo tipo parkour oh ma non siete su type of pool non siete su type of pool fortunatamente se non lo se fossero anche per play 3 play 4 aiuta il mico del cazzo ma wolf secondo te la nutella può essere considerata la droga perché sulle patrie non ciclopedia ci sono delle cose terrificanti costruisci da solo tua centrale nucleare in scala 1 a 1 come lo dico no via 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 c'è love 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 ma tu c'hai questi love questo love love eh c'è un lato che mi sta sparando cos'è che devo dire anche io ti love anche io ti love un ciclopedia parla del computer a due mouse scusa ben compiuta la tua mouse ma che cazzo è un ciclopedia non ha un senso non deve avere oppure il motore a cat e burrata ma golone la tua è un geletto la mia è un geletto c'è un geletto no aspetta cavolo sono senza cuffie come se ma che cazzo ti aiuto ti aiuto no 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 mi sa di no come che tempo è che tempo fa che tempo fa oggi è che piove oh stiamo guardate in alto stiamo arrivando alla james bond sto facendo altre cose io devo sparare una banda di comunisti arrabbiati ma perché perché mi stanno ti faccii comunisti va bene ma vaffanculo dai il nostro povero esercito ma che cazzo faceva lì quello sociale pizze stavo camperando di lamiera una lamiera non esista una lamiera sono un coglione lamiera conquistata la lamiera conquistata cos'è una nuova modalità di bacco il filo si conquistare la lamiera mamma mia doppia chiuso la pagina di mi fai posti mi serve vengo a curare wolf è morto io sono da indietro sono da indietro doppia uccisione multipla sono uccisi hai spento wolf c'è qualcosa che non va nel computer oh mio dio un virus tremendo hai usato spegnare lo schermo ah ecco no perché io quando non usiamo il computer spengo lo schermo per risparmiare la fine pensavo che fossi crashato ma noi stiamo usando il computer no jacopo miche si trolla da solo è questo qua poi cioè figuriamoci tutto cioè lui quando scrive non è che scrive cioè tira delle botte alla tastiera ma perché io sono abituato a scrivere veloce per essere sicuro e prendere i tasti intanto la mia la tastiera e poi quando chiudi cosa dire gli atomi non sono scenditi guarda lì guarda l'attor kutu guarda l'attor kutu ne ho chiuso uno su tre ma no e si fa culo se il campero è bastetto non è mai c'è un camper polso c'è un camper qual è il problema c'è un camper guarda qua quanti camper ci sono voi digitate camper su google c'è un camper da qui dietro riesce una smart sì vabbè questi perché adesso i camper girano anche i smart per chi non lo sa perso poi se ne va viene fuori un video assurdo questo qua senza senso che chi lo guarda proprio non capisce niente ma come tutti i nostri video soprattutto con google che dice che dobbiamo accettare la privacy dei cookie adesso mi è venuto a fame però ma devo pure di parlare ai cookie e lo cura ah ma cookie con ordine di scuola di sopravvivenza ecco questa che lo inquadrava ma qualcuno sa come che si chiamava ragazza di scuola di ned scuola di scuola di scuola ma occhio che sono qua c'è un supporto con lmg adesso voglio sapere come si chiama ragazza di ned scuola di sopravvivenza che sta camperando perchè a questo punto ned scuola di sopravvivenza sta camperando la dietro marco 3193 italiano salutiamo marco 33193 no marco mi dice che ah no ho ucciso poi no mi ha lasciando se sapesse che finirà su youtube dovrebbe ringraziarci eeeh null nessuno si può immaginare cosa facciamo in questa stanza mentre facciamo il mio dove l'orecchio dov'è il mio orecchio comunque a questo punto direi di chiudere qua quindi ringraziare il dottor culto e il mister Carrara per aver partecipato a questo video e aver fatto i coglioni con voi salutiamo da jacopo mie e da wolf e l'ultimo commento di il dottor culto e il mister Carrara ciao ciao ragazzi che cazzo comunque ci rivedrete prima o poi sul loro canale a giocare su gta quinto diciamo che potrebbe essere anche fra poco diciamo che potrebbe essere fra poco molto poco quindi bella a tutti da wolf da jacopo mie e da stefan kaos che non c'è e dalle tette che non ci sono quelle neanche